E' un Rodolfo Robustelli soddisfatto dopo la prima vittoria stagionale dei Lupi a Pozzuoli. L'assistant coach di Gianluca De Gennaro invita la squadra a continuare a lavorare e rimanere sul pezzo perché c'è da migliorare in alcune fasi di gioco. Il banco di prova è importante per noi, dobbiamo iniziare a giocare partite, dobbiamo mettere minuti nelle gambe dei ragazzi. Sicuramente siamo ancora un po' indietro dal punto di vista della conoscenza dei giocatori, quindi della chimica di squadra, pian piano stiamo lavorando. Oggi abbiamo visto delle cose migliori forse in attacco, in difesa c'è ancora un po' da lavorare sicuramente ma sappiamo di essere in ritardo quindi dobbiamo essere bravi ad ottimizzare un po' i tempi per farci trovare conti dall'inizio. Prendiamo comunque il buono che c'è in questa vittoria e ci prepariamo per il campionato. Il tecnico avellinese fa le carte al girone, ecco la griglia delle favoriti alla promozione, ma scommette sui Lupi. Sicuramente sarà un campionato difficile, ci sono delle squadre molto ben attrezzate come Rieti, ad esempio penso subito a Rieti, Matera e Taranto che insieme a Salerno forse rappresentano le squadre che lotteranno per i primi posti. Noi siamo pronti a dire la nostra, è vero che partiamo con un po' di ritardo ma siamo riusciti a recuperare un programma di lavoro, ormai siamo quasi in linea con la tabella di marcia che c'eravamo prefissati e credo che la nostra sia una squadra che abbia potenziale. Dal campionato si attende molto e di una cosa è certa, non si ripeterà l'annata amara della passata stagione. Nella stagione mi aspetto sicuramente tante soddisfazioni, credo che quest'anno potrà andare in maniera diversa rispetto a quella dell'anno scorso, sicuramente abbiamo una squadra più pronta, più competitiva, nonostante forse Rieti a media non si sia alzata così tanto, però credo che potremmo dire la nostra.